Mi si smonta la panna, la panna non viene, come fare? Ora vi mostrerò come fare la panna montata. Le panne montate sono in infinità, ma io parto da quella più difficile, la panna fresca di latte vaccino. Di cosa è composta una panna? Essenzialmente di acqua, proteine, grassi. La tecnica è solo una. Tutte le panne fresche si montano a temperature basse. Come fare? Panna messa in frigorifero, anche un po' in congelatore, recipiente di acciaio, sia della planetaria, sia la ciotola, sono ghiacciate. E poi, ecco qua, metto la panna. Se vuoi montare una panna, non è così, ma sarà sempre il movimento ampio. Lo farò a mano per voi. Adesso sto in silenzio e voi vedrete montare la panna. Seguitemi, velocemente. Mi vedete rosso, eh? L'ho montata grazie all'esperienza sia di cucina che di tecnica. Molto, molto freddo e anche la panna più difficile diventa spumosa. Buona cucina a tutti!